Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ritorniamo su Pokémon Flora Sky Io sono PelliWG Va bene, ci ricordiamo dopo con la bruttissima figu figuraccia Devo aver perso sotto la capa palestra Va bene, noi ritorniamo E oggi la sconfiggeremo Va bene, possiamo andare avanti Andiamo subito subito Va bene, dai Inizia la partita Ci dobbiamo vendicare, non ci interessa niente Ci vendichiamo contro Leader Martin Tirogue Fatti sotto Chimchar Bracere Ecco, lui è sempre più veloce Ora noi frinciamo Ecco Però noi siamo Bracere E siamo più veloci per la seconda volta E va E ora lui usa Gran Fisico Per mostrare un pippalle Ok Bracere Vai, 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 vai Un bel protocollo No Sei bruciato Bruciato ragazzi Bruciato ragazzi Una luce su azione Ci toglie poco E lui è bruciato E noi vinciamo Va bene Guardate bene Guardate bene Il livello 13 Chimchar Perfetto Ok Leader Martin Is about to do Scraghi Noi cambiamo Pokémon Usiamo Starly Ho cambiato Ho cambiato Tattica Ok Scraghino Attacco d'ala Attacco d'ala Su Scraghi Perché lo facciamo fuori In pochissimi colpi E lui Praticamente Starly Non subisce niente Almeno credo Anche se lui Usa la pozione Ora La natura Usa la pozione Per forza Ci scommetto Ma E' scemo Perché non recupera tutto E noi con attacco d'ala Ora lo dobbiamo Distruggere assolutamente Dovremmo Eh Intanto Ha resistito Perché ha Va un suo potere Fisico Cosa da sottolineare E ora noi Però Usiamo Abbiamo Abbiamo battuto Scraghi Livello 11 Starly E ora Lotta Finale Come avete visto E' molto molto meglio Questa tattica Perché Starly E Chimcia Ora Starly morirà Subito Subito Ma Chimcia potrà Veramente lottare Contro questo Hitmonjack E' veramente Fortissimo Veramente forte Un pokemon Che io desideri Avere in squadra Attacco Dall'intanto Di Starly Vai Bavissimo Voressimo Starly Ora lui ci usa Razione Ah no Ancora Granfisico Ragazzi Possiamo avere Una grande opportunità Anche se Granfisico Li aumenta Sia l'attacco Sia la difesa Quindi il colpo Ci può far fuori Anche a Chimcia Ma ne attacchiamo Ma ne attacchiamo Sia la grafisico Abbiamo veramente Vinto Ma Usa La funzione Di merda Però noi abbiamo Due attacchi A disponibilità In disposizione Dovremmo avere Due attacchi E no Eh perché Si aumenta anche La velocità E' veramente Fortissimo Questo attacco Di Questo pokemon Di merda Veramente No 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 noi usiamo Da capo Attacco d'ala Mamma mia ragazzi Di poco Vai Azione Mamma mia Attacco d'ala E vince la medaglia La prima medaglia La vince E vince E vince E vince E stare livello 12 Vince la prima medaglia Al terzo tentativo La riesce a vincere E per le VG A 1000 Soldi Del gioco Vabbè E dai E andiamo così Andiamo così Perfetto Abbiamo avuto La Kung Fu Beige La Kung Fu Medaglia Grande L'abbiamo vinta La prima medaglia In più la TM8 Che non so cos'è Va bene ragazzi Si Ehi Riprenditi Tra T Va bene Ok Andiamo avanti Ok No 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 Ok andiamo Ritorniamo Ora andiamo avanti Nel gioco Andiamo avanti Va bene ragazzi Andiamo Ok Andiamo a rimetterci in sesto Di Pokémon Ma poi devo farvi vedere Una cosa molto molto curiosa Ancora di questo gioco Ok Ciao Si va bene Lo sappiamo Si 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 Grazie Grazie per aver aspettato Vabbè Capirai Ok ragazzi Io vi devo farvi vedere La cosa curiosa Di questo gioco Che riguarda Un'accusa Che non ho visto Nella prima puntata No 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 Ma perché No No Attenzione Mappa Aspetta Ho visto Un'accusa Allora Adesso da farmi notare Era questo Notate qualcosa Il cappellino Del giocatore Ragazzi È verde I produttori Si devono decidere Di che colore è Se Rosso Giallo Verde Questa era l'accusa Che volevo farvi dire Poi Ho notato Proprio ora Una parola Teleport You selected Teleport Service I am sorry You can't use it now Mi sono dispiaciuto To Posso Sare Va bene Questo ha fatto Del teletrasport Teleport È molto curioso Va bene Notate il cappellino Ancora una volta Beh beh Credo che possiamo andare di qua Senza problemi E ciao Ecco Rompicoglioni Sky Ciao per l'Ivg Ah Ah Hai battuto Martin Grande Cominciamo la battaglia Chi te l'ha chiesto Ti farà Vabbè Vediamo quanti Pokémon ha E chi è Pokémon Ha un Pokémon Speriamo Ippopotas Vabbè 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 Ippopotas Ragazzi Va bene Bella c'era Che non gli fa un cacchio Non gli fa niente Mi torna un pochino Ah Sinceramente Poi questo Ippopotas Veramente rompe palle Veramente Sto send Non rage Rompe veramente i coglioni Ecco Ah però ci ha tolto due Ah beh Quella è la send Vai E vai Bite Ecco Vabbè Ora ci dovrebbero togliere Poco Vabbè Ora lui sarà Abbiamo vinto I sbuffe Vabbè Ci toglie poco E ma va a cagare Tu ho la pozione Ah Sono rotti i coglioni Lora la pozione Che culo Criticaletto Di Cimchar Grandissimo Non ha concluso niente La sua pozione di merda L'abbiamo avuto La me Ah Vabbè Pelle vg 2000 for women Grande Pelle vg Va bene ragazzi Intanto abbiamo avuto Rock smash Si rock smash Spaccaroccia Se non l'avete capito E ora li facciamo pure passare Abbiamo vinto Inoltre lo facciamo pure passare A sto micappato Va bene Proprio un grandissimo rispetto Vedete che carino Lo zainetto Che abbiamo dietro La skin Vedete il nostro personaggino Va bene ragazzi 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 No che dovevo fare No perché non c'è tutto Quasi un cazzo Andiamo giù Andiamo qui Ecco E ci dobbiamo prendere Qualcosa Da comprare Io direi Due vanno bene Perché tanto Non è che ci interessa Abbiamo anche già quattro No No Poo Proporzioni No Merda Un po' di più 5 vanno pure bene No Antidoto Un 3 Così arriviamo 2032 No Merda Mamma mia Paralisi Heal Va bene così Awakening Vanno pure bene Uno Uno va bene Escape rope Non la usiamo Repellenti Riempiamoci Di repellenti Perché arriveranno Rompicolloni Da tutte le parti Dell'erba Bene ragazzi Va bene Ragazzi Va bene Ragazzi Belli Vg Qui Arati Corre da solo Ragazzi No vabbè Si Rockmash Bravo 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 Guarda Go I popol Tash Colonna mi sembra Un ippopotas No veramente Ora si E lo fa Va bene Va bene L'abbiamo capito Ragazzi Vabbè Ecco Un pokemon Rompi Coglio E una cosa Questo Lo catturo Ma non vi spaventate Perché lo catturo Per una precisa Funzione La semplice funzione Di far usare Spaccaroccia Questo pokemon Di merda Che mi sta sul cazzo Da quando l'ho visto A pokemon Del bianco No ma veramente L'odio Il mio pokemon Più Che mi sta sulle palle Va bene Ora Catturiamolo E Non lo catturare No 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 Cuggia Togliti Togliti Va bene Lo dobbiamo catturare Per forza E lo catturiamo L'ho detto Non lo curiamo neanche Non lo userò mai Perché è una merda E quindi Andrebbe così E scriviamo anche No no Scriviamo nessun soprannome Poi Sta male Sta male Sta male Sta male Nessun soprannome In assoluto No Sta male Sta male Peccato Poi Allora Andiamo a Zaino No Za Zaino E Che dovevo fare Ecco Andando con la Gran fisico Va bene Give No user Butt it Ok Contaglio le spaccaroccia Va bene Tic Spaccaroccia E Lo potevo mettere anche su cimic Quindi è molto meglio Da una patrat Impara Spaccaroccia Ora Partito contro questo qui Ma non la facciamo Ma che palle Uno starlino Ciao Coglione Va bene Va bene Fuga Meglio fuggire E' meglio fuggire Ed è meglio Ed è meglio proprio E' meglio E' meglio Ciao Ciao se lo sappiamo Che se vi non c'è troppo Va bene Prenderò per pochi secondi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ok Grazie Spero di vederti presto Io no Va bene ragazzi Credo che la puntata Possa finire qui Mettete mi piace Commentatevi E iscrivetevi al canale Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima